Buongiorno a tutti, martedì 20 giugno, oggi sì che è una giornata importante per i principali mercati azionari europei e statunitensi perché dopo la pausa per festività di ieri riaprono i mercati USA e ripartiamo proprio pur ieri non avendo negoziato ma essendo andati solo i futures fino alle 19 ora italiana da dove eravamo rimasti anche se sono ovviamente indegno di utilizzare questa frase perché quando penso al dove eravamo rimasti ovviamente la memoria non può che correre al grande Enzo Tortora che dopo la persecuzione giudiziaria che l'ho visto protagonista ingiustamente che ne ha purtroppo più tardi causato anche la morte perché credo che il tumore che gli è venuto sia proprio per questo motivo e penso che sia uno dei più belli incipiti di tutti i tempi dove eravamo rimasti e questo per ricordarvi anche se molti di voi sono iperattenti che il Dow lo Standard & Poor's 500 il Nasdaq Composite e il Nasdaq 100 sono su massimi di periodo ma venerdì avevano appunto dato un segnale di incertezza per quanto riguarda la prosecuzione del forte movimento a rialzo. Possiamo invece concentrarci con maggiore attenzione sugli indici europei perché ieri hanno negoziato regolarmente e qui viene fuori un tema purtroppo del quale e siamo stati spettatori più volte quest'anno quando ci sono delle rotture importanti vediamo il Dax che ha fatto nuovi massimi storici venerdì e poi ieri fa una seduta piuttosto difficile quasi da meno uno e oggi sarà molto importante che non venga persa questa rialzista partita dai minimi del 31 di maggio perché diversamente avremo un primo target a 16.165 e poi a 16.088 con possibili estensioni fino a 16.021. CAC Carant ieri invece candele inside comunque anche il CAC ha fatto meno uno e qui più o meno vale lo stesso discorso fatto per il Dax ovvero venerdì una bella rottura perché è stata superata sia la resistenza statica che la media mobile a 57.373 e ieri seduta di correzione piuttosto significativa. In questo caso il minimo importante è quello ovviamente di venerdì 7.297 poi abbiamo 7.246, 7.244, 7.237. Euro stocks più o meno anche qui abbiamo una situazione analoga perché questo massimo del 19 di maggio 4.413 era stato quasi superato venerdì con un massimo a 4.410 invece ieri seduta difficile e qui abbiamo un primo livello importante a 4.333 e poi pochi punti sopra c'è la media mobile a 50 e quindi abbiamo 4.316, 4.291. Per quanto riguarda il nostro Futsimib Future ieri ha provato nuovamente a portarsi su questa fortissima area di resistenza compresa tra 28.050 e 28.095 ma ne è stato nuovamente respinto quindi come vi ho già detto e alcuni del mio gruppo su Whatsapp mi dicevano ma com'è possibile non ti sei sbagliato dicendo 29.490 non sarà 28.490 no è 29.490 vedete nella fattispecie cerco di allargarvelo ancora un po' così lo vedete sono questa serie di tre massimi allineati ho messo un time frame mensile luglio 2008 29.640 agosto 2008 29.770 29.760 e settembre 2008 29.490 per cui se dovessimo effettuare una chiusura io direi settimanale almeno perché è una rottura talmente importante che preferrei avere una conferma da una rottura settimanale 28.095 i target possono essere addirittura questi ovviamente saranno molto importanti le prossime sedute perché già sotto 27.785 si va subito a 27.555 e poi 27.365 27.240 diamo uno sguardo ai futures vedete che quelli americani sono leggermente negativi Dow meno 0.18 Standard & Poor meno 0.15 Nasdaq 100 meno 0.11 Russell 2000 meno 0.46 i DAX fa meno 0.09 l'Eurostox più 0.02 abbiamo un Nikkei a meno 0.31 un Topix a meno 0.74 un Hang Seng a meno 56% per la crisi del settore immobiliare che purtroppo pesa ovviamente sull'Hang Seng Singapore meno 0.45 e Cospi meno 0.07 notizie macro ancora povero il calendario abbiamo direi l'unico dato veramente importante o più importante alle 14.30 negli Stati Uniti i permessi di costruzione rilasciati nel mese di maggio previsti a 1.425.000 veniamo adesso alle notizie price sensitive diamo uno sguardo prima ai CDA perché uno dei due titoli che oggi bisognerà più che altro seguire bisognerà evitare proprio Algovat perché ve la leggo già prima io ve l'avevo già aperta anche qui perché volevo farvi vedere vedete qui c'è tutta tutto il comunicato di Algovat comunicato stampa vedete da Borsa Italia è uscito ieri proprio in corrispondenza della chiusura del mercato di urno deliberata la presentazione di un'istanza per la composizione negoziata della crisi del gruppo con possibilità di accedere alla relazione decennale di tributo proposte ai creditori finanziari di conversione proprio di debito di nazioni con aumento di capitale riservato poi vabbè c'è il nuovo piano industriale diciamo che io quando nel recente passato il titolo aveva fatto guardiamolo anche un attimo graficamente quei rally incredibili io vi ho detto più volte che non credo ai miracoli è stata sempre una società in grande difficoltà con un debito enorme rispetto ai numeri che faceva per cui sinceramente che avesse fatto movimenti come l'ultimo a gennaio da 0,52 a 0,69 2 in tre sedute ma anche questo qua soprattutto da inizio marzo 2022 la prima decada di marzo titolo che valeva poco più di 0,30 è arrivato fino a 1,27 è vero che la borsa è piena di queste speculazioni però sono titoli a di poco molto pericolosi perché questi movimenti si basano su poco a livello proprio di fondamentali comunque la notizia che hanno battuto le agenzie è in linea con il comunicato stampa che vi ho fatto vedere uscito subito in prossimità della chiusura del mercato diurno il CDA ha deliberato la presentazione di un'istanza per la composizione negoziata della crisi di gruppo con possibilità di accedere alla dilazione del debito tributario decennale ha proposto ai creditori finanziari convertire i propri debiti in azioni con un aumento di capitale riservato ovviamente mi aspetto che il titolo oggi possa soffrire credo che graficamente almeno fino a 0,56 possa arrivare però il target successivo è di tour a 0,52 tutto sta come prenderà il titolo il mercato tanto che ci siamo guardiamo Avio Avio non è uscito ancora nulla Avio in questo laterale piuttosto interessante perché sta tenendo questo supporto 9,36 9,39 e se dovesse ripartire da questi livelli credo che almeno a 9,78 poi 9,93 quindi media mobile a 200 area 10 il titolo possa arrivare veniamo al tema credo più interessante di giornata che è Telecom come vi ho fatto vedere nel video di riepilogo serale già in after hour il titolo era piuttosto comprato la notizia è che si appresta ad avviare una trattativa con KKR per la vendita della rete fissa in quanto l'offerta del fondo statunitense è considerata preferibile rispetto a quella presentata da un consorzio guidato da Cassa Depositi e Prestiti ma credo che dopo una prima speculazione perché magari si vede finalmente la luce in fondo al tunnel qualcosa di concreto deve uscire cioè cosa intendo dire che il mercato qualche giorno magari una settimana di fiducia te la dà poi dopo se per l'esima volta si risolve in un nulla di fatto ovviamente il titolo potrebbe anche tornare rapidamente indietro target per oggi media mobile a 50 0,26 e 8 poi 0,27 e 44 0,27 e 57 eventualmente obiettivi successivi 0,28 e 24 0,28 e 81 Italgas anticipa dal 25 al 26 dal 26 il 25 di luglio la data di diffusione dei conti del primo semestre del primo semestre anche la phone for the school con investitori analisti si terrà nel pomeriggio il 25 di luglio vabbè anticipare la comunicazione dei dati è sempre meglio che posticiparla però il titolo adesso è in una situazione oserei dire quasi decisiva perché se dovesse perdere 5,42 che è il minimo di giovedì e anche media mobile a 200 potrebbe tornare tranquillamente a 5,37 e mezzo 5,32 e mezzo ma anche in area 5,30 senza alcun problema al momento è ancora in un chiaro trading range vedo la prima divergenza di bassista su RSI per cui la mia idea è che possa tornare prima nella parte bassa del range e poi magari fino in area 5,30 per questa mattina ho concluso auguro a tutti buon trading e noi ci aggiorniamo dopo la chiusura del mercato diurno per la chiusura e noi ci vediamo la chiusura